9.500 litri di latte lavorato, 7 malghe coinvolte, 14 casari, 65 giorni di lavorazione, oltre 1000 kg di formaggio, 2 metri di diametro. Questi numeri della forma gigante del formaggio della Transumanza, la vera protagonista della quarta grande festa di Latterie Vicentine, che si terrà domenica 2 ottobre a Bressanvido in occasione della festa della Transumanza. Un'intera giornata con tante attività e poi alle 16 il taglio della mega forma che verrà distribuita al pubblico. Come ogni anno parte del ricavato della vendita sarà devoluto in beneficenza, quest'anno alle popolazioni terremotate di Amatrice.